Salve a tutti ragazzi e ben trovati in questo nuovo video oggi siamo qua in una nuovissima puntata della serie Holzhousen Map e siamo in compagnia di Loris ciao a tutti e del porseo Manu no non è vero eh no no vabbè comunque ragazzi siamo tornati dopo un bel po' di tempo e ovviamente adesso stiamo diciamo ancora finendo i lavori che dovevamo aver già finito da un bel pezzo però dopo 3000 anni eh vabbè almeno siamo risuscitati dai e intanto Loris si sta occupando come vedete delle balle e le sta mettendo sul carro come vedete sono un po' piccole un po' grandi però vabbè non fateci caso cioè vabbè vabbè la compa è sempre mia comunque vabbè ebbene ragazzi allora adesso Loris sta ancora continuando con le balle ovviamente guardate ragazzi che precisione eh guardate ragazzi mamma mia bravo Loris allora lui adesso sta ancora caricando ovviamente qui sul sul carro adesso io mi recco sulla nostra Jaguar e continuiamo bravo porseo con allora eccolo qua attacchiamolo un attimo visto che dobbiamo ancora continuare questo misero 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 campo che poi misero misero non è però vabbè non lo stesso in un momento c'è ancora vino da riempire ancora queste vasche qui come vedete una è già metà aspetta qua ha la collisione la recinzione? eh? ha la collisione la recinzione? eh sì purtroppo sì ma va fan brodo se no tagliavo direttamente lì o no scusa no aspetta la barra non ha la collisione che si è proprio passato con la barra ah è vero è vero è vero è giusto sì sì comunque la recinzione ce l'ho peccato però vabbè da qua te passi e te vai subito al biogas eh vabbè ok ragazzi noi continuiamo adesso no prendiamo un attimo no giù di qua occhio prendo la filo a filo ecco lì occhio senza eh ho buttato il suo paletto adesso ho trinciato anche il paletto sì che bello così facciamo un trinciato di paletti che non credo però che piaccia agli animali però vabbè eh non penso proviamo proviamo a dargli così vediamo se cambia qualcosa eh occhio occhio vanno a sbararmi che sì che non c'è collisione però cavate dai so che non te vuoi stare sulla strada però eh non mi piace la strada eh non ti piace va bene ragazzi allora noi continuiamo con il trinciato e poi ci ritroviamo dopo con sempre col trinciato ragazzi bene ragazzi eccoci qua ovviamente al biogas stiamo tentando di risuscitare il il deutz che ovviamente ha incastrato l'olis eh mano eh sì sì eh sempre copia eh allora adesso proviamo io sono andato sparato dritto pensavo usciuto dall'altra parte adesso proviamo questo metodo vedere se funziona allora dai poi ce la fai eh sì è un po' pesante gloria il peso dietro guarda 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 che disastro che gloria ha due uno che tira su e l'altro che ne è un'altra defada eh buh prova un po' non mi ricordo dovevamo tenerne una qua al biogas no non ce n'è un'altra ah dovrei dovrei prenderti bene per il peso però non ci riesco dai dai si stacca il rimorchio eh no perché lì sei sulla eh volevo provare a sbassarti ma non riesco aspetta 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 che ho trovato forse un metodo aspetta 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 se ero tutta a palla so così ti provo il sarda così ah non riesco dai arrivano i rinforzi dai 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 Manu dai dai vieni subito che io sto tenendo sto arrivando sparato sto tenendo sto tenendo praticamente per una ruota il deutz eh sto arrivando sparato dai 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 mamma mia ragazza cosa che lavori qua ci vorrebbe una rampa magari anche qua dietro perché non si sa mai come uno arriva sparato eh non si sa mai sì o fare un muretto bisogna fare un muretto eccolo 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 pan arriva tutto sparato tang contro contro l'unico albero che c'era è andato a prendere aia 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 dai Manu dai che non sto reggendo eh sì eccolo ti sei tutto speso su di me aspetta 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 dovete andare dentro la vasca e spingere la vizza adesso no no andate dentro la vasca e spingere la vizza seo dai 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 guarda guarda dai no 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 Manu che tempieri su anche ti poi ma seo c'è guarda guarda ola mamma mia ragazzi che roba che fatica adesso io mi tuffo però eh sì adesso vediamo Manu che si tuffa dopo te la lasciamo lì ah sì dopo sì prendo la rincorsa dai prendi la rincorsa dai su però ti cavate dai vai ho detto ti cavate se pareva cavate tu dito dai dai su bene ragazzi eccoci qua adesso siamo di nuovo tornati nella serietà ecco nel campo 22 no serietà è una parola grossa serietà buona parliamo del favore casino eh vabbè comunque adesso siamo tornati seri aspetta Loris guarda che ce l'ho sotto io ecco adesso finiamo questo campo 22 così almeno abbiamo finito poi la trincea almeno speriamo di completarla ma sto peso non si basa di niente eh bravo adesso e dagli eh si può essere ecco ragazzi allora adesso noi continuiamo dai 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 su 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 dai dai va bene ragazzi allora ci ritroviamo dopo quando abbiamo finito qua bene ragazzi eccoci qua siamo ritornati intanto è arrivato anche un porseo. Un porsei? Sì, un porseo, eh. Sempre un porseo, eh. Ho fatto passire la barba del vietone. Eh, bravo. E intanto noi diamo ancora un po' di... Ma non fai vedere i capolavori che stiamo facendo io e Manu? Si viene a vedere il porseo. Cosa? Vuoi vedere cosa stiamo facendo? Eh, meglio che non vengo a vedere, sennò il ciappo ha ammazzato tutto. Vieni, vieni, vieni. Venga. Un attimo, che mucche qua mi spettano. Qua mi spetta. Sì, ormai l'abbiamo fatto. Quasi. Forse è un porseo. Un attimo. Dai. Parti. Dori, spero puoi andare avanti invece che indietro. Non va avanti. Dove siete? Albi ove. Albi ove. Albi ove. Ecco, ormai... Ormai le tardi. Perché? Eh, ormai è tutto risolto. Oh, lì va proprio bene, friend. No, non va proprio bene. Sì, adesso non è proprio risolto, eh, comunque, però. Sì, non proprio. Non è proprio risolto, ma vabbè. Torniamo. Beh, ragazzi, allora, adesso ho finito di dare qua il silato. Porseo, porsei, 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 porsei. Eh, tabonti. Bene, ragazzi, per questa puntata è tutto. Porseo, dove si? No, porsei. Vabbè, il porseo vi ha già salutato, l'altro pure. Questo qua che fa un cazzo, tutto il D, e Loris pure. E alla prossima. Tutto il D. Ciao, ciao. Sì, tabonti. Ciao, ciao. 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 Ciao. Ciao, ciao. Grazie a tutti.